E' visto il Martina che ha vinto a Lecce? Ma a Lecce ha vinto, mannaggia, sì sì, mannaggia, come? Eh, lo so, Lecce-Salernitana, tutti hanno perso, sì lo so, incredibile, ma comunque, va bene, che dobbiamo fare? Pensiamo a noi, pensiamo a noi. Quelle secondo me fanno le insalate, fanno, sì, incredibili, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. E' questo l'unico passaggio del decreto di fermo sul calcio scommesso in cui si parla di Salernitana. Si tratta di un'intercettazione telefonica tra Giorgio Flora, vicepresidente di S.D. Fatto del Brindisi, e Savino D'Aleno, l'ex calciatore del Terlizzi. Secondo il sostituto procuratore di Catanzaro, Elio Romano, salernitano di origini, potrebbe però esserci di più sulla squadra della sua città di origini. Le indagini dell'inchiesta di Irti Soccer si sono chiuse ad aprile, ma alcuni telefoni sono rimasti ancora sotto controllo. E' in questo contesto che, secondo la procura di Catanzaro, sarebbero emersi elementi interessanti che riguardano altre cinque partite combinate, tre società di calcio, Salernitana, Benevento ed Ascoli. Ipotesi investigative che sarebbero state rafforzate sempre secondo la procura di Catanzaro da alcuni appunti ribattezzati poi pizzini, trovati a casa di alcuni indagati durante le perquisizioni. Appunti di combinate, numeri sui quali combaiono proprio i nomi delle tre squadre. Per il momento, però, questo nuovo filone investigativo è ancora tutto da approfondire. Nel decreto di fermo emerso l'altro giorno, del resto si parla spesso di diverse partite, anche se poi, a conclusione delle indagini, queste stesse partite sarebbero risultate pulite. Di queste cinque, su cui si starebbe concentrando ora l'attenzione degli investigatori della squadra mobile di Catanzaro e del servizio centrale operativo, si sarebbe parlato in diverse telefonate. Discorsi nei quali, secondo le prime indiscrizioni che stanno venendo fuori, i personaggi coinvolti nell'inchiesta affermerebbero di aver avuto notizie da soggetti terzi sulla possibilità di scommettere su quelle partite perché combinate. Si tratterebbe di almeno una decina di soggetti, tra cui altri calciatori e dirigenti sportivi. Ipotesi sulle quali lo Tito, copatron della Salernitana, ha già tirato in balle in alcune intercettazioni per fatti riguardanti le partite di Serie A taglia corto. Non scherziamo, dice, sono tutte bugie, le bugie non mi interessano, vado avanti come un treno sulla strada dei risultati, evidentemente il mio lavoro sta accogliendo nel segno. Tutte queste bugie non mi interessano, rispondo alla mia coscienza. Quinti insiste, la Salernitana, i pizzini, ma non scherziamo. Grazie.